Ad Alba Adriatica il mare si è portato via tutta la spiaggia di alimentazione. Le ultime mareggiate, anche se non di grande forza, hanno fatto scomparire la poca sabbia rimasta. A nulla sono valsi gli appelli degli operatori della zona nord che da anni vivono una condizione di ansia costante per paura del mare che in pochi anni ha mangiato tutta la spiaggia delle loro concessioni e in diverse circostanze ha anche arrecato danni alle strutture. Sì, infatti i ripascimenti non servono più a nulla, cioè non sono serviti quasi mai a nulla e si vede anche dall'apporto della spiaggia di alimentazione con oltre 120.000 metri cubi non è rimasto nulla. Doveva servire ad alimentare a sud e come vediamo a sud invece la situazione è peggiorata rispetto all'anno scorso e sta peggiorando di giorno in giorno. Praticamente c'è una concessione che ha perso quest'anno al di circa 20-25 metri di profondità, da giugno adesso. Gli operatori balneari di loro iniziativa e a loro spese hanno posizionato, così come previsto dall'ordinanza comunale dello scorso anno, i blocchi di cemento e difesa degli stabilimenti. I balneatori inoltre avevano anche proposto di posizionare i massi più verso il mare per cercare di salvare spiagge e stabilimenti. La legge però non lo prevede o comunque nulla dispone la normativa regionale e il comune in questo caso non potrebbe rilasciare alcuna autorizzazione. Questo è sufficiente, speriamo, speriamo che sia sufficiente per queste piccole mareggiate. Grandi mareggiate da sud come quella di due anni fa sicuramente non sarà sufficiente. C'è amarezza tra gli operatori turistici e amministrazione comunale che si auguravano un intervento tempestivo da parte della regione Abruzzo. La situazione è grave, abbiamo chiesto in tempi non sospetti già un tavolo di lavoro alla regione Abruzzo, alla quale possano partecipare anche gli stakeholders. Allo stato attuale delle cose non abbiamo nessuna notizia. Siamo arrivati anche a una decisione che deve essere definitiva, cioè quella che Alba Adriatica non può più pagare Dazio per tutti gli altri. Siamo convinti che se questo progetto dovesse essere messo in cantiere, parlo delle barriere rigide, anche l'ipotesi che debba iniziare dal porto di Giulianova non ci convince più perché pagheremmo Dazio ancora noi di Alba Adriatica. Quindi o l'intervento lo si considera un intervento a salvaguardia della costa abruzzese senza che nessun comune paghi Dazio oppure comunque noi non ci stiamo più al gioco che deve essere Alba Adriatica che paga per tutti. Noi non abbiamo più tempo di aspettare. Purtroppo la spiaggia è arrivata all'osso, è arrivata al limite, non abbiamo più spazio dove mettere ombrelloni e ci auguriamo che chi di dovere porti delle soluzioni.